Ok ragazzi ci siamo, questa è la sede di Eagle Rider Los Angeles Non sono neanche le 9 quindi non sono neanche ancora aperti Però io faccio subito un giro e vediamo cosa c'è Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ok ragazzi devo ancora registrarmi ma sono venuto fuori a vedere la moto Ed è questa Ok ragazzi ho fatto il check in adesso vado nel parcheggio e mi dà le chiavi della moto Carico tutto e si parte Alla prossima Ok ragazzi ho appena preso la moto Ora ho appena sistemato tutte le cose come vedete ho zerato contachilometri Qui ho il mio navigatore con tutte le mie posizioni salvate La borsa nel tour pack Ok Sono qui in una gas station Sono qui in una gas station ho acquistato delle bottiglie di acqua perché fa caldissimo Anche se a dire la verità non c'è umido come è in Italia Anche se a dire la verità non c'è umido come è in Italia qua lungo l'oceano In fondo è Santa Monica e Los Angeles quindi E da qui inizia la Aigue 1 la Pacifica che sale su verso Malibu su verso San Francisco quindi direzione San Francisco e questo è l'oceano Pacifico Anche se a dire la verità non c'è umido come è in Italia Anche se a dire la verità non c'è umido come è in Italia Anche se a dire la verità non c'è umido come è in Italia Dì Grazie a tutti. Ah, eccomi qua. Niente, praticamente sto aspettando il mio amico Emil perché il navigatore questa volta ha fallito e non sono riuscito ad andare dove c'è lui il negozio, quindi mi raggiunge lui ora qua. Ah, sono stanchissimo, giornata, il caldo mi ha distrutto, poi quando si inizia un viaggio così in strade che non sono quelle di casa e tutto quanto, bisogna aver mille occhi. Ho dovuto controllare la moto quando l'ho ritirata perché comunque mai fidarsi di nessuno, ci devo fare tanta strada, c'è di mezzo la mia sicurezza e un sacco di cose. Quindi tante cose a cui pensare, quindi stanchezza mentale oltre che fisica dovuta al caldo e tutto quanto. Ora sono fermo qua. E aspetto Emil. Eccolo lì. L'ho mai visto tante Springer tutte insieme. Ciao Emil. Ciao. Raccontaci tutto. Oi, sono Emil, amico di Fabrizio, ci siamo conosciuti un po' mai. Questa è la prima volta che lo conosco. L'ho portato a casa mia a fargli vedere i miei tesori. Tutto in fila. Questa è quando l'hai comprata? Questa l'ho comprata due anni fa a San Francisco. L'ho comprata 4.000 euro. La moto è proprietaria. Ma euro è quindi in dollari? In dollari saranno, se non sbaglio, la pagai all'epoca 4.400 dollari. Quindi penso che siano all'incirca 4.000 euro. Ed è il 98, proprietario originale, 20.000 chilometri. Questo è il Cross Ponds. Ce ne hai fatto i lavori? No, originale. Le prendo e cerco di portarle tutto. E vanno sempre bene. Sì, sì, sì. Non c'è problema di niente. Pazzesco. Questo è il Cross Ponds. L'hanno prodotto soltanto per, penso, 4 anni. 2.8, 9, 10, 11. Sì, 4 anni. Produzione attuale, penso che sia intorno ai 13.000 esemplari. Io ne ho due. Questo l'ho comprato in Texas. Sono sentito in Marche e sono andato a prenderla. Dove in Texas? Che città? Dallas. Wow, si è fatto un bel viaggio. Sì, sì. L'ho comprato, 8.000 dollari. L'ho comprato, l'ho portato a casa. Anche quella è proprio l'originale. Questa è del 2001. Questa è ancora a carburatore, sì. È 1.450. 1.450, bravo. Ed è anche quella l'ho pagata... Non l'ho pagata, l'ho pagata, ti penso, 5.000 dollari. Proprio tra l'originale, tutto originale, eccetto il carburatore. E se vedi le marmitte, la copertura, dici... Ah, fantastico. Quello là è fatto da Harley, lo faceva... Ah, proprio Harley Davidson. Sì. Wow. Questo è il Bad Boy. Bellissima la sella. La sella è... La sella non è originale. Sì, sì, no, la so. Te la sei fatta far tu la sella. No, l'ho comprata così. C'è soltanto 1.500 esemplari di questa al mondo. 1.500, l'ho comprata a Phoenix, in Arizona. Ah, sì, ma vi avevi raccontato che hai preso la Tormenta di... Ho preso la macchina e sono salito in macchina e sono andato a prenderla. Anche questa è il chilometro originale, 20.000 miglia, che sarebbero in circa 34.000, 35.000 km, in St. Genera. Poi c'è la... La Street Glide, 2015. Questa è bella, questa è veramente... Uno dei miei tesori. La comprai anche questa, la proprietà originale. La pagai 16.500 dollari, con 800 miglia. Ma come fate qua negli Stati Uniti? Ci sono degli annunci... Io vado su questa website che si chiama Craigslist. È come un subito punto it. Si chiama Craigslist e ci sono i posti in tutti gli Stati Uniti. E poi riesci a contrattare sul prezzo? Si, si, si. Questa lui la voleva vendere a 20.000, l'ho portata giù a 16.5. Cioè, questa moto vale ora, omo ora, 22, 23. Tengono il prezzo. Di che anno ha questa? Questa è il 2015. Ah, il 2015, si. Il 130. Qua in America tendono il prezzo. E qua hai fatto tutto il garage. Fa tutto il tuo. Sembra una concessionaria, praticamente. Si. Fa tutto il tuo. Questo è il 1996 Bad Boy. Cioè, il filtro originale, non so. Anche questa, questa l'ho comprata, sembrerebbe assurdo. Questa moto non si trova in questo colore. Sono molto difficile trovarla. Io l'ho trovata dietro l'angolo. Il palazzo che c'è a conto a questo, il proprietario ci aveva in garage da 7 anni mai usata. Incredibile. L'ho comprata a 4.800 euro. Aveva un... Ci sono delle contravenzioni non pagate per 1.500 euro. L'ho pagato tutto e l'ho portata a casa. Lui ha perso delle contravenzioni che non l'ha mai pagato. Quindi se tu non paghi le contravenzioni, c'è la multa on top of the... Che va a soffa. Quindi se la contravenzione è 100 dollari, ad esempio, e non paghi, dopo 6 mesi diventa 150. Dopo un anno diventa 200. Ok. Questa la comprai... Questa l'hai da poco che ce l'ho, tipo 2 anni. Questa è bella, è proprio bella. C'è un po' più di chilometri, di miglia. Ce n'ha 30.000, 31.000, però... Comunque ti ho mantenuto lo stesso manubrio. Le manubrio, se te ne accorgi, hanno tutto lo stesso manubrio, perché il manubrio, questa è la mia posizione di guida. A me piace questa manubrio. Ah, infatti sì, sì, sì. Tratti ho cambiato il manubrio dappertutto. Ho messo lo stesso manubrio ovunque. I pezzi del crossbones che vedi, i pezzi originali delle moto che ho comprato in passato, e quelli che conservo tutte. Giusto. Questa l'ho comprata nuova di Zecca. Ti piace la crossbones? Sì, sì, springer, eh. Questa l'ho comprata nuova di Zecca, nel 2010, l'ho comprata a Washington DC. Poi mi sono trasferito qua, perché ho vissuto da un po' di vento. E quando mi sono trasferito, mi sono detto, ok, ora me la porto. E avevo un track, ho portato le quattro moto, da Washington a qua, con un track che avevo studiato. Questo è il mio biciclo a destra, ragazzi. Ok ragazzi, questo è il primo pieno, faccio la moto. Questa l'ho comprata, ragazzi. Questa l'ho comprata, ragazzi. Eccomi qua in una gas station, ho appena fatto 10 bucks of gas, you know. Ho appena fatto 10 dollari di benzina, e la prima benzina che metto nella moto. Dunque, sono stato a casa di Emil, abbiamo scenato insieme, mi ha fatto vedere telemoto, abbiamo scherzato, è stato veramente piacevole. Adesso mi sto dirigendo verso San Isidro, perché ho la mia prenotazione di un motel per la notte, per questa notte. E domani si andrà in direzione Tucson. Quindi, questa è l'America on the road.